Paradiso delle Signore Otto, le anticipazioni dal 13 al 17 novembre. Gramini chiede un grosso favore a Tancredi, vuole diventare a tutti i costi presidentessa del circolo e d'altronde lei lo ha aiutato, accettando di fare da prestanome senza battere ciglio. Di Sant'Erasmo parla con Umberto della Gramini e Flora li ascolta. Anche lei vorrebbe diventare presidentessa del circolo e alla fine sarà proprio lei a riuscirci. Tancredi chiede a Fiorenza di non dire niente a nessuno del loro accordo, ovvero che lui le aveva proposto di fare da prestanome per acquistare la tessuti Colombo. Ma Fiorenza non starà affatto zitta, si precipiterà da Vittorio a raccontargli la verità. Così anche Matilde rischia di venire a conoscenza dei traffici del marito. Al circolo, la Frigerio si ritroverà a conversare amabilmente con Vittorio Conti, ma a un certo punto arriva Tancredi. Di Sant'Erasmo, vedendo il feeling che c'è tra di loro, farà una sfuriata davanti a tutti. Matilde, il giorno successivo, si scuserà con Vittorio per il comportamento del marito. Inoltre, Frigerio viene a sapere che il Paradiso delle Signore ha dei problemi con il riassortimento e ha un'idea per aiutarli. Si sente ancora parte integrante del grande magazzino e anche gli altri la vedono in questo modo. Infatti, anche Gloria ed Ezio, che hanno fiducia nei suoi confronti, le chiedono un consiglio molto importante. Vito ha fatto loro una proposta. Ha proposto di acquistare lui la fabbrica Tessuti Colombo. Non sanno bene come comportarsi. A proposito del fidanzato di Maria, sta prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di non trasferirsi con lei in Australia, ma di rimanere a Milano. Ed è anche per questo che pensa di acquistare la fabbrica Tessuti Colombo. Inoltre, nei prossimi episodi, Puglisi viene minacciata. Inoltre, incontra l'usuraio di Matteo, che le dice di portargli i suoi saluti. A proposito di Matteo, litiga con il fratello, abbastanza gravemente, a causa di un orologio. Per questo litigio, nonostante abbia dei grandi debiti con l'usuraio, prende seriamente in considerazione l'ipotesi di licenziarsi dal Paradiso delle Signore. Ma successivamente, Barbieri si scusa, e così Matteo torna sui suoi passi.